La fantasia è dalla penna di chi nasce? Di uno dei nostri ragazzi, si chiama Alessio. Alessio sta qua? Sì, sì, qui da qualche parte. Non l'ho visto, sì, sì. Alessio! La prima cosa ci muoviamo nella massima sicurezza. Signor Alessio, buonasera, ben trovata. Questo è Raffaele, è un altro... Raffaele è un maestro che si occupa di che cosa? Di carpenteria, di carta o di polva? No, rispetto... Rispetto in tutto e in tutto. No, qua tutti facciamo un po'... E senti, fino a che ora l'avete intenzione di fare? Stassi i coci, vedi qui, prima che è sarda, non ci faccio. No, mi sono dato che siamo qua, ci sono mezzanotte alle 1, quando andiamo qui, perché chi deve lavorare, chi deve fare... Se la facciamo ad ascendere in piazza per un appuntamento particolare. Queste sono tre sfilate, un po' quattro. No, sono tre. Sono sempre tre. Non usciamo ad allontare. Benissimo, il nostro avuto è il nostro avuto. Ci vediamo sul corso con la musica, canti, balli e soli. Ok.